Andrea Catania, DS della Sestresa. Allora Andrea, è una partita bloccata, larghi tratti, sempre in parità, forse il risultato più giusto era quello del pareggio. Ma sì, noi veniamo, non è molto facile per noi. Ho cercato di imbrigliare la Cairese, che è una squadra, secondo me, che è una squadra che ha giocato l'arcio. Cioè, Diego avrà un gran futuro, perché secondo me, insieme a Maesano, forse e pochi altri, è un attore migliore in questo campionato di eccellenza. Ne abbiamo provato a fare il imbrigliare la Cairese, nella partita da 0-0, siamo nel sessantesimo, poi ne abbiamo avuto un'occasione con Tecchiati. L'hanno salvato sulla linea, sono venuti giù, hanno trovato il gol nella partita. E' finita, in questo momento qua abbiamo difficoltà, difficoltà a fare i gioci, non a fare i gol. Abbiamo fatto i gol, su azioni, in ultime cinque partite, abbiamo vinto una sulle ultime unici. Però al nostro campionato noi siamo sereni, perché comunque giochiamo la squadra a Cia, oggi ci mancavano anche i giocatori importanti. Domenica andiamo ad Albenga, una parola difficilissima, dice la passifica, me lo dico io. E poi la domenica dopo inizia il vero nostro campionato, a casa con Canaletto, Parenzano, dobbiamo fare dei punti per forza, perché la squadra c'è. Dobbiamo forse un pochino avere un pochino più di coraggio.